si chiama profezia dell'armadillo ogni previsione ottimistica fondata su elementi soggettivi e irrazionali spacciati per oggettivi e logici destinata ad alimentare delusione frustrazione e rimpianti potrebbe essere più chiaro un va de mecum per prendersela nel culo tutto si muove all'interno dello schema madre del sistema potere avidità sovraffazione denaro ti dovevi vedere l'odio il dogma degli schelli di tutte le periferie d'occidente questo è il film quello che stava da mio padre con la poca di feroci con le ts è normale che brucia eppure scritto spray al pepe roncino sabato scorso ero bello riposato a mezzogiorno una spruzzata fatta bene in faccia e poi riuscivo a intrattenere dei rapporti perché mi sto soffando senti qual è il problema del computer che hai fatto start e dopo start scrivo cerca dove lo scrivo sulla scrivania ti giuro guarda che fai fermo se mi lascia le generalità adriano panetta professione professione i bambini sono ricchi e fascinosi invece i bambini sono proletariato quant'anni c'hai te ventisette ma non è meglio adriano eh